Una piccola società del Tarantino con 10.000 euro di capitale sociale che sino ad un anno fa si occupava solo ed esclusivamente di integratori alimentari si era giudicata nel pieno dall'emergenza pandemica in atto una fornitura milionaria da 25 milioni di euro per l'esattezza per la protezione civile del Lazio per la fornitura di dispositivi di protezione individuale come mascherine e camici. L'idea era quella di metter su un vero e proprio grosso business e la piccola società tarantina aveva già intascato quasi 5 milioni di euro sull'anticipo della fornitura ma la procura di Taranto e la guardia di finanza ionica hanno scoperto i giri illeciti della società effettuando oggi sei arresti di cui quattro nel Lazio e due nel Tarantino oltre a sequestrare preventivamente come proventi ritenuti illeciti 4 milioni di euro. Le accuse vanno da associazione a delinquere finalizzata alla truffa al riciclaggio ed autoriciclaggio. Per tutti i sei indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari. La presunta truffa sarebbe stata messa a segno sia nei confronti della protezione civile del Lazio che nei confronti di altre imprese private. Nelle fasi più critiche della prima ondata pandemica la società ionica facente capo a uno degli indagati si era proprio proposta di fornire DPI necessari per far fronte al rischio di contagio ma a fronte dei contratti sottoscritti la società ha dapprima fornito documenti rilasciati da enti non rientranti tra gli organismi deputati a rilasciare la specifica attestazione e successivamente per superare le criticità emerse durante le procedure di sdoganamento della merce proveniente da Cine e Turchia ha prodotto falsi certificati di conformità. Le indagini condotte avvalendosi anche dal supporto del nucleo speciale di polizia valutaria e dell'unità di informazione finanziaria hanno permesso di bloccare il pagamento a saldo dell'intera fornitura da parte della protezione civile del Lazio pari a circa 25 milioni di euro. I proventi illecitamente conseguiti hanno spiegato stamane in conferenza stampa gli inquirenti in procura a Taranto sono stati riciclati e autoriciclati dagli indagati per alimentare altre condotte delittuose anche attraverso il trasferimento dei fondi su conti esteri. Esempio ne è il trasferimento dell'anticipo della fornitura da 5 milioni di euro in Albania da cui partirono ordini per l'Egitto successivamente mai evasi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto su proposta del procuratore aggiunto Maurizio Cardone e del sostituto Antonio Natale.